Si chiama Nicole Terry Rester a 29 anni di età e ve lo iuta. Sarebbe accusata di aver ucciso la figlioletta di soli 4 anni di età con ben 30 pugnalati, inflitte con la uscita di un coltello da cucina. Si chiamava Lainy Boss ed è stata trovata in condizioni devastanti secondo quello che le autorità competenti ci informano per colpa della barbara violenza che la madre ha avuto proprio sulla figlia. Pensate che proprio la madre ha cercato su Google come far fuori la figlia e poi l'ha fatta fuori, ripeto nuovamente. Anche questo accade nella civile, si fa per dire USA o meglio Stati Uniti d'America. Una vicenda che scuola il mondo interno non solo l'USA ma anche altre nazioni al di fuori di questa bella nazione così grande e così affascinante. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua. Un saluto caro da Leandro, un narratore italiano.